Siamo nel mio negozio, l'orologeria Frosi, via padre Luigi Monti al 16. Questo negozio è stato creato, voluto e aperto da mio padre nel 1954, quindi l'anno prossimo facciamo 60 anni di presenza in questa via. Mio padre nel 1948 subisce un infortunio sul lavoro per cui tramite l'INAIL frequenta una scuola di riabilitazione a Milano, di conseguenza fa il corso di orologeria nel 1949 e nel frattempo conosce anche mia mamma. Mio padre originario e abitante a Cremona, torna a Cremona e ha finito la scuola ovviamente e dopo qualche anno decide di venire a Saronno per sposare mia mamma e aprire la sua attività di orologiaio. Trova questi due locali in affitto e nel 1954 appunto apre questo negozio dove era lavoro, quindi negozio, ma era anche la sua abitazione. Quindi il negozio in origine era diviso in tre parti. La prima parte dove c'è l'ingresso aveva il suo laboratorio con il banco per ricevere i clienti. Qua in mezzo c'era un divisorio in legno con una finestra e un'apertura chiusa da una tenda e in questo lato c'era la cucina. Il retro invece, quello che oggi è il retro, era la camera da letto. È rimasto così per diversi anni fino a quando poi ho avuto altri due locali sopra e quindi portando al piano superiore la camera da letto, la cucina passava nel retro e il laboratorio veniva dietro questa tramezza. Era un po' una particolarità se vogliamo di quel periodo. La via Padre Uligi Monti aveva molti negozi, molte botteghe artigiane e ecco diciamo negli anni 60 quasi tutti gli esercenti, il negozio era anche l'abitazione quindi era facile entrare nel negozio magari a mezzogiorno dove la persona stava cucinando o facendo da mangiare. L'impostazione diciamo che è rimasta sempre la stessa quindi mio padre è aperto come laboratorio di orologeria, si è aggiunto la vendita degli orologi ma è rimasta sempre ed è ancora così esclusivamente di orologi. Io ho proseguito e ho iniziato il suo lavoro negli anni 70, metà degli anni 70, ho iniziato come si dice a bottega come si faceva una volta quindi lui mi ha un po' trasmesso tutte le sue capacità, le sue conoscenze nell'orologio meccanico e dagli anni 80 in poi ho frequentato i corsi di aggiornamento di specializzazione in Svizzera, prima sull'orologio al quarzo, sull'orologio elettronico e poi sull'orologio cronografo e complicato. Ho risistemato il negozio quindi questa versione attuale è stata rimodernizzata negli anni 90 però mantenendo comunque sempre la caratteristica più che altro sulla riparazione dell'orologio. Forse sono uno dei negozi storici della via perché bene o male nella via Padre Uligi Monti se oggi la guardiamo sono cambiati quasi tutti. Forse una piccola originalità di quei tempi era, io mi ricordo negli anni 60, se qualcuno doveva venire in via Padre Uligi Monti e chiedeva appunto dove si trovava questa via magari qualcuno rispondeva ma non so non l'ho mai sentita, mentre se chiedeva la via Como arrivavano tutti e si sapeva esattamente dove si trovava perché se non mi ricordo male fino agli anni 30-40 questa via si chiamava via Como poi è stata modificata in onore anche del Beato Padre Luigi Monti. Però è rimasta ancora un po' la tradizione della vecchia via Como quindi una delle strade storiche commerciali appunto di Saronno. Allora voglio solo raccontare la storia di questo orologio particolare che è un po' particolare se vogliamo un po' come la storia del mio negozio. Si chiama Perseo, la marca che produce questo orologio e questo orologio nello specifico si chiama Piombo. È stato fatto per il centenario delle ferrovie dello Stato ovviamente in serie limitata ma riprodotto esattamente fedelmente come l'orologio che veniva dato in dotazione al capotreno negli anni 20. La Perseo è riuscita a trovare tra i suoi archivi il capitolato che le ferrovie dello Stato richiedevano determinate caratteristiche, l'ha ritrovato, l'ha ricostruito e ha mantenuto le stesse caratteristiche di costruzione che richiedeva le ferrovie tranne una piccola particolarità perché chiaramente il movimento che c'è dentro è di produzione più moderna. La particolarità di questo orologio è questo piombino che dà il nome anche all'orologio. Allora originariamente l'orologio meccanico come lo conosciamo oggi non si tirava la corona per mettere in orario ma si apriva questa lunetta qua all'interno esattamente sul 2 c'era una leva per cui Columbia si tirava una leva si spostava al gioco di ruote si poteva mettere in orario. Allora il capotreno quando andava in servizio l'orologio era in come si dice in incomodato d'uso veniva dato a lui per per utilizzo ma non era di sua proprietà per cui il capostazione quando consegnava l'orologio lo apriva lo metteva in orario e poi lo sigillava e lo piombava in modo che se per caso il treno non era in orario succedeva qualcosa il capotreno non poteva dare la colpa all'orologio e di conseguenza questo orologio qua è stato rifatto con la stessa caratteristica dell'anellino e del piombino che sigilla la lunetta. In realtà qua è solo super bellezza perché ovviamente l'orologio si mette in orario naturalmente. L'unica particolarità se vogliamo ancora di oggi è che se dovessero portarmelo da riparare io il piombo lo devo tagliare e ovviamente nella scatola ci sono i piombini di ricambio per cui io poi lo sigillerò un'altra volta e nessuno può aprirlo. È stata mantenuta anche la caratteristica della scritta qua di dietro che ha la stessa scritta in stile Liberty che usavano i ferrovie dello Stato in quel periodo con la dicitura e il numero di serie e il numero di matricola. Perseo ha fornito gli orologi, anzi è diventato il fornitore degli orologi dello Stato nel periodo fascista. Allora gli orologi venivano forniti da altre marche tipo Zenit tipo Longin ma nel periodo fascista appunto non si potevano usare nomi stranieri. In origine quell'orologio qua, la sua marca originale era Cortebert e l'importatore di allora che era a Firenze pensò di trasformare il nome Cortebert in un qualcosa di particolare, di diverso e gli viene in mente appunto la parola Perseo che piacque ovviamente sicuramente al periodo fascista e di conseguenza lui è diventato il fornitore ufficiale delle ferrovie dello Stato fino al 2000. L'orologio Piombo quando è stato dato in dotazione al capotreno c'era in servizio sulle linee dello Stato quei vagoni che si chiamavano Centoporte perché ad ogni finestrino c'era una porta d'ingresso. Di conseguenza Perseo quando ha creato questo orologio ha pensato anche di costruire questo modellino del vagone Centoporte che era in servizio in quei tempi e questo modellino viene dato in omaggio in dotazione insieme insieme all'orologio. Un'altra caratteristica se vogliamo dell'orologiaio sono i Cuckoo. I Cuckoo sono una produzione originale della foresta nera quindi non è corretto come qualcuno dice Tirolo, Valtellina o Svizzera. Noi possiamo comprare Cuckoo in qualunque parte del mondo che vogliamo ma l'originalità e la produzione ed esclusivamente tedesca nella foresta nera. E fosse rimasto anche uno dei pochi prodotti che la casetta, la struttura esterna è fatta in legno ed è fatta quasi interamente a mano. Ci sono se non mi ricordo male 13 passaggi quindi a 13 persone differenti per la costruzione finale. Hanno tutti una caratteristica una diversa dall'altra. Quello fosse più particolare è questo che ha tre pesi invece di due perché quando suona il Cuckoo che è un po' fisso per tutti dopo suona il Carillon e si mette in funzione i due bambini sull'altalena e i ballerini là in alto. Adesso lo metto in funzione così sentiamo e vediamo cosa succede. Dunque abbiamo parlato delle particolarità legate alla vendita ma la mia attività principale è quella del riparatore e quindi adesso vi farò vedere il mio laboratorio con le mie attrezzature di riparazione. Ecco questo è il mio laboratorio, il mio retrobrottega come si diceva una volta. Sono le attrezzature d'orologiaio, le attrezzature chiamiamole di base che ci vogliono per forza. La prima è un apparecchio per la prova di impermeabilità quindi questo apparecchio simula la pressione quando si va sott'acqua, lavora secco e lavora sia in positivo e negativo quindi con una pressione e un vuoto e individua nell'orologio eventuali perdite fino a perdite proprio talmente piccole che a volte è difficile anche andarle a cercare. Le altre due, queste e questa, sono due macchine per lavare gli orologi. Questa praticamente non la uso quasi più, è lì d'emergenza, questa serve per lavare gli orologi dove il meccanismo dell'orologio io lo smonto completamente in un cestello, si aggancia qua sotto e poi ci sono quattro passaggi. Il primo è un liquido che sgrassa e toglie tutte le impurità dell'orologio, risciacquo, risciacquo e l'ultimo è un essicatore quindi funziona un po' come il phon, con il calore fa evaporare il liquido che è stato utilizzato senza lasciare nessuna traccia e il meccanismo esce perfettamente lucido, senza loni, senza assolutamente niente. Si pulisce l'orologio non come qualche volta si pensa perché è entrata della polvere, perché l'ho usato male, perché l'ho lasciato nel cassetto, ma si pulisce l'orologio perché è l'olio che invecchia, l'olio invecchia, si addensa, ossida e a un certo punto diventa, nei casi più gravi diventa un corrosivo, di conseguenza lui va a corrodere i perni delle varie ruote, quindi io non posso mettere l'olio nuovo se non vado prima a togliere quello vecchio, di conseguenza la revisione e la pulizia sta proprio nel togliere tutte le varie impurità. Questa è una vaschetta ultrasuoni che serve invece per pulire le casse, i bracciai degli orologi, ma principalmente mi serve per quella che si chiama la grossorologeria, quindi i meccanismi dei QQ come abbiamo visto prima o i meccanismi delle pendole che sono molto grossi, ovviamente più di un orologio. Qua dentro gli ultrasuoni mi servono per penetrare ed entrare all'interno delle ruote, delle dentature e dei fuori. Io passo qua dentro il movimento intero e una volta che pulito lo tolgo e lo smonto completamente per andare a vedere poi tutte le sue particolarità. Questa è una imboccolatrice, come si chiama, è praticamente uno strumento che serve per le pendole per la grossorologeria. La pendola sostanzialmente dopo molti anni che gira ovviamente senza magari a volte anche manutenzione, i fori che sono nelle platine di ottone tendono ad ovalizzarsi, diventa praticamente come l'asola nella camicia del bottone. Allora la ruota non lavora più perfettamente in asse, lavora inclinata e quando si smonta e si pulisce i fori che si trovano ovalizzati vanno sostituiti. Ovviamente non si può sostituirlo perché la platina è un pezzo unico, allora grazie a questo si centra, si fora e si mette una bussoletta in bronzo nuova. Questa qua dietro invece è un'altra macchina per provare l'impernovità degli orologi, però questa volta d'acqua. Ovviamente è un po' ai suoi pro e contro e io la tengo esclusivamente per andare a cercare dove c'è la perdita. Quando la apparecchio che abbiamo visto prima mi segnala una perdita e non si riesce a scoprire da dove perde, mettendola lì dentro in pressione mi escono le bollicine dal punto dove la guarnizione perde e allora è più facile individuare e riparare questa situazione. Questo è un vecchio tornio da orologeria, tornio storico perché era stato dato in dotazione mio papà quindi negli anni 50, perciò anche lui c'ha i suoi anni come il negozio. È un tornio che si possono fare diversi lavori come ripivotare i perni dell'asse del bilanciere, forare, limare, lavorare oppure costruire anche qualcosa di particolare. Per esempio io avevo fatto quando avevo incominciato un asse del bilanciere con il manico di scopa, questo in legno si tagliava via il pezzettino di manico di scopa e poi qua sopra si costruiva l'asse del bilanciere giusto per capire all'inizio come era fatto e come funzionava. L'unico inconveniente di questo tornio è che purtroppo non si può fare per esempio alcune particolarità di ricostruzione nel restauro degli orologi quindi è abbastanza limitato ma il suo servizio lo fa ancora molto degnamente. Questa è una scatoletta per i ricambi, principalmente qua si tenevano gli assi del bilanciere, storica anche lei, pezzettino di carta con la divisione in numeri da 1 fino a 60 perché ci sono 60 tubetti, si metteva il calibro che è l'identificazione del movimento e il tubetto dove c'era il ricambio che ci interessava. È su due piani, è quasi una scatoletta da collezione. La particolarità che allora venivano fatte e oggi non esistono più è che tutti i tubetti sono in vetro con il tappino in sughero. Oggi non esistono più perché poi era stata sostituita dalla plastica ma oggi proprio non ci sono più questi, chiamiamole assortimenti, queste scatole di assortimento perché è tutto in plastica. Sembrano bianchi, sembrano smerigliati perché allora per evitare l'ossidazione si metteva dentro, anzi mio padre metteva una polverina tipo saponaria, tipo borotalcom, qualcosa che assorbiva l'umidità e di conseguenza anche se l'asso del bilanciere rimaneva dentro per qualche anno perché non serviva non si arrugginiva. Questo che vediamo è un equilibratore, è uno strumento anche questo storico datato, serve per equilibrare il bilanciere. Quando si cambia l'asse a volte il bilanciere, il foro non era più perfetto oppure si cambiavano certi assetti proprio del foro nella ribattitura per cui facendolo girare non manteneva lo stesso peso e di conseguenza portandolo al polso l'orologio non era preciso. Ecco qua in pratica i perni dell'asse del bilanciere si appoggiavano su questi due rubini, si metteva lo strumento in bolla e poi lo si faceva girare per vedere se lui girava in maniera equilibrata e non penzolante regolando così poi i pesi. Questo invece è un trappanino da orologiaio a mano, è un morsetto, qua si metteva la punta e poi se serviva a fare dei micro fori sulle platine per qualche lavoro particolare, facendo quel lavoro qua andavamo bucare la pratina dell'orologio. E per ultimo questa scatoletta, qua dentro ci sono dei maschi per filettare i fori dove entrano le viti che parte da 0,25 fino a 0,80 di diametro per le nostre viti piccolissime. Ecco dal laboratorio ci siamo spostati sul mio banco da lavoro, quello che noi orologiai chiamiamo banchetto, il banchetto è un po' la nostra sala tavolo operatorio se vogliamo chiamarlo così, con le nostre attrezzature che ci servono in continuazione. L'orologio che vediamo adesso sullo schermo è un orologio automatico, meccanico, cronografo, è un movimento che a me piace sempre parlare di quel movimento qua perché è molto suggestivo, fa il suo effetto. Il cronografo è sempre l'orologio più particolare ma il meccanismo è sempre quello più bello da vedersi perché ha tanti componenti, a tante leve, a tante cose che si muovono ed è anche quello un po' più lungo da spiegare. Il calibro di questo movimento è un Valjoux 7750, il calibro nell'orologio è l'identificazione di chi l'ha costruito, ci serve per sapere ovviamente chi l'ha fatto e come l'ha chiamato per poter prendere poi le sue parti di ricambio. Il bilanciere che è in funzione ha una frequenza di 28.800 oscillazioni all'ora, vuol dire che lui in un'ora fa 28.800 volte tic tac, la frequenza dell'orologio è data da diverse particolarità che il fabbricante lo decide a secondo della precisione su cui vuole stare come meccanismo. Ci sono diverse frequenze, partiamo dalla più bassa che sono 18.000, 19.600, 21.600, 28.800 fino al 36.000. Questo è già una frequenza abbastanza alta, preciso come meccanismo. Questo invece che vediamo, la massa rotante che si muove, è quello che carica all'orologio. Quando noi abbiamo l'orologio automatico molte volte c'è chi pensa che il suo automatismo di ricarica è dato dal contatto col polso, qualcuno pensa anche ai battiti cardiaci, pressione, cose varie. In realtà è solo questa mezzaluna, è un contrappeso montato su questa parte centrale che è un cuscinetto a sfere, questa parte è in continuo movimento, quindi di dondola come se fosse una campana, un pendente, ogni movimento che noi facciamo, questa oscillando muove qua sotto tutta una serie di ruotini per cui mi vanno a caricare l'orologio. Praticamente l'orologio meccanico è... ecco qua sotto che però in quell'orologio qua non è che si vedano molto. L'orologio automatico è un orologio che praticamente è sempre sotto carica, a differenza del carica manuale che una volta che arrivo a fine corsa non posso più andare avanti, questo continua sempre a caricare. Ha un dispositivo particolare nel suo bariletto che è l'involucro della molla per cui a un certo punto sgancia, scarica e ricomincia da capo. Crea ovviamente una riserva di carica per cui se io porto l'orologio tutto il giorno con un certo movimento, quando lo lascio giù alla sera, questo funziona un altro giorno grazie alla sua riserva di carica. La parte cronografica invece di quell'orologio qua è data da tutto un insieme di giochi di leve che sono qua sotto, comandati da una parte, anche questa nascosta in questo momento, che è una ruota a cam. Se torniamo indietro un po' negli anni 70, 60, 70, quando c'era molti più orologi meccanici, l'orologio meccanico, anzi il cronografo diciamo di qualità era quel cronografo dove il suo funzionamento era dato dalla ruota a colonna, una ruota a colonna che per delle scannellature particolari quando si girava muoveva, innestava o disinestava tutto un gioco di leve. Questa invece è proprio come una cam, come in meccanica, ha delle scannellature dove entrano delle leve forzate da alcune molle, quando io schiaccio il pulsante di partenza questa ruota si gira e di conseguenza si muove tutto quello che deve muoversi. Parte cronografica, parte automatica, parte cronografica e una volta smontata sotto troviamo la parte dell'orologio che è la base come di tutti gli orologi. Qua lato quadrante troviamo il conta minuti, il piccolo secondo che è quello agganciato all'orologio ed è sempre in funzione, il conta ore, la data, il giorno della settimana, ora, minuti e la lancetta dei secondi del cronografo. Il conta ore, questo sistema per il conteggio delle ore nella parte cronografica è in questo orologio posizionata appunto sotto il quadrante. È posizionata sotto il quadrante anche perché per una questione di spazi è stato creato una posizione con una ruota che ingrana con la molla per cui quando io faccio partire il cronografo questa si libera e si mette in funzione. Questo tipo di presentazione sul quadrante non è quello più complesso perché quello movimento qua esiste una variante dove c'è il piccolo secondo, le ruote sono due ed esce la divisione delle 24 ore, dove c'è il conta ore, c'è la finestrella per la fase lunare, la data in questo caso non ha più queste due finestrelle ma il mese, il giorno della settimana e su tutto l'arco del disco del quadrante c'è il datario data da un'altra lancetta. Di questo orologio è la parte un po' più complessa perché solo per il sistema del datario sono 30 38 pezzi se non mi ricordo male montati su tre ponti quindi una cosa piuttosto bella complessa da vedersi però quello più diffuso diciamo è questo quello più semplice con con il classico datario.